Volete vincere un tablet e diventare prof per un giorno? Ecco cosa fare. Scegliete un prof e insegnategli ad usare i social. Selezionate il social network che preferite tra Facebook, YouTube, Instagram e Twitter e create una lezione breve e divertente per raccontare al vostro prof come funziona. Se volete potete utilizzare anche più di un social. Per vincere dovete essere originali. Per la vostra lezione potete usare tutto quello che vi viene in mente. Disegni, foto, travestimenti, cartelli con scritte e simboli dei social, stampati o disegnati da voi. Potete addirittura fare una lezione cantata, una coreografia o un finto telegiornale. Fate quello che vi pare, ma ricordatevi che avete massimo 5 minuti. Ora uno di voi dovrà filmare la lezione con una telecamera o con uno smartphone. Se non siete dei bravi videomaker, sedetevi su un banco davanti alla cattedra in modo da ottenere questa inquadratura. Pronti ad andare in scena? Accendete la telecamera e registrate la lezione che avete preparato. Ora caricate il vostro video su telecomitalia.com.utic. Una giuria selezionerà il filmato della classe che avrà realizzato la lezione più coinvolgente e creativa. In palio, un tablet per ogni studente. E uno per il prof. E ora preparatevi per una sfida all'ultimo social.